Hop Planet, Marcello e amici della redazione, un saluto e un abbraccio da Luigi Abate, la zebra parlante. Siamo qui a Taranto e il mio cuore era allo Juventus Stadium, ma impegni di lavoro mi hanno trattenuto in quel di Taranto. Visto una partita che la Juventus ha saputo gestire con intelligenza, non era facile perché poi chiaramente nulla è scontato nel calcio, vedi la fine che ha fatto il Paris Saint Germain. Una Juventus che ha saputo portare a casa la qualificazione, ha saputo amministrare la gara, una gara in cui si è visto un bel senso di maturità. Volendo analizzare un po' le prestazioni dei giocatori, qualche sbavatura di Daniel Vesch, qualche sbavatura un po' pesantuccia di Benatia. Quadrado mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto Manzukic, la sua capacità di attaccare e di difendere, ma non è una novità. E poi un grande Paolo Di Bala, un vero trascinatore. Ora siamo qualificati, siamo nell'elite del calcio europeo, siamo tra le otto grandi sorelle. E signori intertristi prescritti cartonati, signori napoletani abbonati alla sconfitta, signori milanisti e giocatori milanisti che vi siete dimostrati incivili andando a distruggere, a creare danni agli spogliatori della Juve, cosa ci avete da dire ora? Perdenti nati, destinati alla sconfitta. Cosa avete da dire? Quello non era rigore, no? Ma sì, perché tanto ormai anche i napoletani cade in signe ed è rigore per la Juve. Ora cosa avete da dire? Ma state zitti, vedete? È una grande gioia quella di stasera. Però quando penso alla cattiveria, alla credine che c'è nei nostri confronti, veramente fate passare la voglia a chi ama il calcio. Vediamo come andranno i sorteggi. Bayer, Real e Barcellona sono certamente squadre temibili, ma la Juventus è, quanto a difesa, la migliore squadra tra le otto. Devono essere gli altri ad aver paura di noi e non dobbiamo avere paura noi di dire puntiamo alla vittoria finale. E gli amici del bar di Taranto da cui sto trasmettendo, da cui sto registrando, ecco vedete, hanno voluto regalare agli amici di Top Planet questo caffè. Forza Top Planet con un cuore, un cuore di amore, carico di amore. E questa è la forza del nostro sud, la forza di Taranto. Che dire? Un brindisi col caffè e con Forza Top Planet. Da Luigi Abate, la zebra parlante e tutto. Alla prossima.